È un adeguamento Istat che tra l'altro non facevamo da più di due anni per cui si rendeva necessario. L'adeguamento Istat è del 4,3%. Adeguamento delle tasse universitarie a Padova. L'inflazione colpisce anche l'Ateneo Patavino e dopo due anni vengono aggiornati i costi per l'iscrizione. Resta invariata però la nota xaria a 25.000 punti ISEE e l'abbassamento delle tasse fino a 30.000 punti. Ricordiamoci però che noi abbiamo una nota xaria a 25.000 euro per cui chi ha quel reddito non paga alcuna tassa e poi anche ulteriori detassazioni per chi ha un reddito tra i 25.000 e i 30.000 euro. È una proposta concordata tra l'altro e accolta molto bene dagli studenti per cui direi che va bene.